Lerida, periferia di Lerida, sabato notte, questo a tutte le macchine che stanno in giro bellissima notte per guidare, ottima musica che ti carica Grazie per la visione A2, direzione Saracozza Appena partito, un'ora e quattro, due di guida e raggiungi le 9 ore, si fa domani mattina alle 6, bellissime stanno notte, vai A2, direzione Saracozza A2, direzione Saracozza A2, direzione Saracozza A2, direzione Saracozza Viaggiare di notte, oltre che essere più pratico, la strada è sempre più libera, l'aria fresca è estremamente d'estate, quindi è bellissimo viaggiare di notte ma è fantastica perché la notte sei concentrata sui tuoi pensieri quindi la tua vista, il campo visivo si riduce e ti concentri di più sui tuoi pensieri, sui tuoi ricordi sulle cose belle, sui momenti belli, sui momenti anche tristi naturalmente quelli là da cui abbiamo imparato tanto questa è la notte di un camionista